A distanza di più di due anni da quella immane tragedia, la dinamica risulta ancora da chiarire. Per questo saranno svolti ulteriori accertamenti sull'uxoricidio-suicidio di Corfinio, con il fascicolo trasferito nella procura del capologo di Regione, dopo l'opposizione alla richiesta di archiviazione depositata dai magistrati sulmonesi da parte della famiglia. La morte dei coniugi Enrico Marrame e Maria Pia Reale risale a 28 giugno del 2020. Lei per mano del marito, lui poco dopo in ospedale, a causa delle ferite che si era provocato nel tentativo di suicidarsi. Il procuratore Alessandro Mancini ha infatti firmato il documento, indirizzato al procuratore GIP del Tribunale di Sulmona, che nega la richiesta di archiviazione del procedimento e trasferisce alla procura generale le indagini. Enrico, 70 anni, uccide la moglie Maria Pia, colpendola ripetutamente alla testa con un tagliere da cucina. E' il figlio ad alertare i soccorsi dopo essere entrato in casa, aver visto il padre con un coltello nell'addome, arma con la quale in un primo momento si pensa che abbia ucciso la moglie. Il settantenne, trasportato all'ospedale di Sulmona, muore nel pomeriggio dello stesso giorno. Entrambi erano in pensione. Lui è stato carrellista, lei a lungo, maestra del paese. Stavano attraversando un periodo poco felice, perché Enrico Marrama si era fatto trascinare nel barato del gioco. La ludopatia è stata spesso oggetto di liti e alterchi in casa, sia con la moglie sia con i figli. Inoltre, quando si è consumato il dramma, il settantenne era stato da poco dimesso dall'ospedale dell'Aquila, dove era stato ricoverato in seguito a un tentativo di suicidio. E' questo probabilmente il nodo attorno al quale ruota tutta la vicenda. Sul caso indaga la procura di Sulmona, che conclude le indagini nel giugno scorso con la richiesta di archiviazione alla quale si oppongono i figli Pasquale, Luigi, Rachelina Marrama, rappresentari dagli avvocati Gianni Falcone e Giuseppina Di Massimo. Gli accertamenti quindi vanno avanti.